però anche qua per seguire le perizie a livello diciamo di contenzioso devo avere comunque seppur giovane devo avere comunque una conoscenza a livello di progetto e a livello anche di cantieri perché come fai a capire quali sono le tensioni superficiali del capote piuttosto le condense piuttosto le muffe impari perché perché hai diciamo passione del tuo lavoro perché ti piace perché dedichi tanto tempo ok e perché ce l'hai un po' nel dna